Uuuuuh! Buono! Ti odio! Salve! Non posso odiare la tromba o il campanello di più? Salve! O quello che fa... Poi vuole anche bere un aperitivo? Dei tamburi? Jingle! Buongiorno, buongiorno. Altro giro, altro regalo. Degli tu dove siamo? Siamo a farci uccidere da una macchina. Dove? Siamo a Moviland. Al momento siamo nel parcheggio, in realtà, di Moviland. Con due compagni di viaggio ormai fidate. Luce saluta, Vale. E oggi... Giusto, lei ormai è. E' la prima volta che veniamo a Moviland. Esatto. E quindi non abbiamo idea di dove stiamo andando, fondamentalmente. Ma andremo a casa. Seguiamo la gente. Qui a destra c'è l'ingresso del Caneva, in cui verremo sicuramente. Non siamo mai state nemmeno qua. Passando oltre, arriviamo invece all'ingresso di Moviland. Guarda, ci hanno messo il tappeto rosso. Questo sembra quella parte di Disneyland del... Siamo nella nuova puntata della rubrica La panchina più comoda. Com'è? Sì, è fredda. E oggi è buona? Ok. Perfetto. E faremo anche una sigla per la panchina più comoda. Va bene. Salve. Siamo all'ingresso di Moviland, cioè siamo già entrati. Come potete vedere, alle nostre spalle. E siamo nella Main Street, Main Plaza, I don't know how to call it. Nella piazza principale. Comunque è tutto molto bello. E' la prima volta... Ti fai che uomo di qua. C'è lo spettacolo! E' la prima volta che veniamo con l'impressione decisamente ottima. E' tutto molto pulito. A noi colpisce molto questo. Soprattutto le regole di distanziamento così mi sembrano ottime. Penso che come paragone abbiamo un Disneyland che veramente ci puoi mangiare per terra. Giolì. Anni amo, c'è Giolì. Ughh! Giolì! 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 un po' di mare, un po' di mare, un po' di mare ma... facciamo due davanti e due dietro è salvo! questa carta qua... non riesco! dove stai tanto? no! dalle imbusione è tutto ok? è aperto, non c'è nessun diritto stiamo tipo infrangendo la legge oddio ma è tipo casa stregata? si tipo guardate quei fantasmini ballerini come c'è uno scivolo? è molto male oddio aspetta Valeria, devo venire lì io voglio oddio delle mamme scivolante vai Eugene guardate ma mi ha fatto male che cosa papà sei fermata io ho paura abbiamo capito ma hai usato un pastinella dopo allarga quei piedi così frego lei oggi è arrivata da sotto la misura io ci provo eh esatto è quello che ho fatto anch'io per fermarmi bravo ho paura è che bell'aria poi adoro ma adesso ci prendiamo un cagone che voi non avete idea adesso come andiamo? guardate che bellini quei mostri ballerini ma da qui si ritorna al mondo dei grandi che credo sia finito adoro siamo appena uscite dalla casa dei fantasmi per i bambini è stato bellissimo perché la Eudio ha avuto tanta paura e poi abbiamo fatto Bandidos per il cinema in 4D è stato molto bello era tutto molto pulito era molto realistico il simulatore bello e poi ci saranno le anteprime che vi faranno capire come è salita la Eudio sul simulatore no mi hai ripresa certo ti crede che vuole dire qualcosa lei no non si può ripresa no ma certo che si può sono le più belle sì lo sto alberto no 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 tu esi da dove bu tu esi? ok vuoi dire qualcosa prima di morire in un laghetto? no basta che non vomitate ci proveremo proveremo a non vomitare sei molto carina sembra un tipo un anturium e tu sei il pistillo siamo appena uscite oddio ma sembra un panda dall'attrazione si chiama jet siamo sulle barchette ci siamo lavate è stato bellissimo si chiama kit super jet guarda che mi sono tramutata in un panda è stato bellissimo e lo voglio rifare sei su un motoschipo e giri velocissimo io soffro la macchina ma non mi viene da vomitare ma perché il nostro amico quando è il jet 2 guidava bene vuoi dire dove andiamo ora? nel sommeggibile nel sommeggibile che stavolta voglio amore vuoi lasciare detto qualcosa? è che prima avevo paura ma non sopparti stavolta ok questa volta ce ne liberiamo adoro questa parte tutta giurassica passata musica 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 diciamo che ci sono non ti ha colore non ti ha desconto se te la finta vedete mi tieni? nooo direi che ho sbagliato io non ti ho duplicato eh nooo è stato bellissimo ma in piedi era un po' di centro oh sì, ho salti in su perché sono salita di perché mi vuoi bene ma io ti voglio 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 bene ho stato un po' di aria ha finito però dove ha finito? stiamo andando su ma io non ci salirò mai più nella vita ma hai punto in piedi? ma non erano i piedi io non salirò mai più su queste cose nella mia vita non è stata bella? siamo pronti a fare non so che giostra 8 bus solo che l'Ilaria dirà che non non starà male ma io ne sono sicura che farà versi quindi filmeremo tutto anche questo e quindi siamo pronti ma in sala come quel coso di prima ah no non salite su qualcosa tutto l'anno è bellissimo c'è una menuta enorme è un autobus 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 adesso devo fissare un punto chiudi gli occhi enormi ma adesso ci andiamo ma dove? guarda non posso però ok non l'ho capitato sono bravissima ancora viva perché? perché? perché stiamo girando davvero? tira ok non gira più però siamo qua davanti d'uscita visto? rock guarda 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 siamo state tutte su un trenino questa è la conquista è una 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 conquista c'è dell'acqua è buio stiamo cercando di entrare in Pangea ma c'è un sacco di coda ma è buio ma io vado a occhio sei pronta sei pronta sei pronta sono pronta io andrò a occhio la Euge sta leggendo le istruzioni su come io debba guidare ma io andrò a sentimi e dì che la Euge non ha la patente e la Euge ha la patente rinnovata non guida testa e attenta io sto attenta io guido io guido ma questo guido è una guida 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 quando dicevo vai piano che non è tanto ferma no ma il problema è che si parla a lui guarda è un triccio è un buone è perché secondo me non guarda a te voi e poi un altro tricceratoquino un brotinoなので un colore che d'oro però l'ultima volta che ho visto una cosa così non è finita molto bene oh che bello è un vero d'acquilo è un vero d'acquilo Ora stiamo andando al Biolab Forse andiamo E' un dinosaurino Oh hanno mangiato il laboratorio, bravi Rivelatevi Prendiamole velocissime Questa è la velocità mattina Credo si trovi appena rotto la macchina Missione confitta Vuoi dirci qualcosa? E' stato bellissimo vorrei rifarlo Ma non so dove possiamo Volete dire qualcosa a voi? Ma si è andata bene La distaccata l'abbia presa più dietro Io ho i piedi bollenti Non so perché era così bollente Adesso abbiamo ancora Una mezz'oretta e vogliamo provare a fare Route 66 che è quello con le macchinine Andiamo Guarda lei Devi prenderle Io che giro anche il volante Ma come va? Guarda lei Qui c'è il nuovo spettacolo Che si chiama Medusa Ma abbiamo mancato l'orario Anche perché oggi il parco chiude alle 6 Quindi io facevamo le giostre Oppure gli spettacoli Però sembra davvero bello Vuoi dire dove andiamo? Andiamo a Cineva A Cineva Andiamo a Cineva 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 Giornata molto positiva Esatto E ci torneremo E boll Prego faccia lei Iscrivetevi E oggi è cosa che devono fare? Iscriversi Iscrivi Facci un commento Lasciare un commento Se sono stati a Moviland anche loro Se gli è piaciuto A questo punto Li salutiamo Se non veniamo investiti Ma dove sei andata? E io dico no tu Ah io? Ciao Li salutiamo Sembro dumbo Aspetta che facciamo così E Ci abbiamo ancora ancora E alla prossima puntata Da fuori dal giardino è tutto Al prossimo video Ciao Ciao Ciao